Pronti? Partenza? Via! Ciao amici Vacanze Landia, è un pronti partenza via un po' diverso dalle altre volte. Ho un video un po' particolare che spiegherà perché questo weekend non ci sono le dirette. Erano state messe a calendario sia l'aperitivo al buio del sabato sera che colazione noi con voi della domenica mattina, ma siamo costretti ad annullarlo perché ho avuto una chiamata alle armi. Questo weekend invece di essere in vostra compagnia sarò in ospedale. È un video un po' difficile, spero di non emozionarmi e che vi chiedo scusa se ho la voce un po' che mi tremo, ma non è facile come ho detto prima. Siamo stati un po' in dubbio cosa raccontare, come raccontare di questa vicenda, però per noi il valore dell'amicizia è un valore a cui crediamo tanto e quando noi nel nostro posto vi chiamiamo hashtag amici di Vacanze Landia è perché veramente vi consideriamo amici e agli amici si racconta tutto. Si racconta tutto e questo fine settimana sarò in ospedale perché mi è stato diagnosticato un carcinoma al seno. E quindi è un momento molto difficile che stiamo affrontando e passerà anche questo. Quindi non possiamo essere online, però vogliamo condividere con voi questa notizia. Però una cosa a cui ci teniamo molto è che non vogliamo fare speculazione mediatica attraverso i nostri canali perché non vogliamo che questa notizia dia più like o avere più follower. Ve l'abbiamo raccontato perché ci teniamo l'amicizia e vogliamo condividerla con voi. Però l'argomento ci terrò a passarlo sul mio profilo personale e sulla pagina di Vacanze Landia continueremo a parlare di viaggi, sogni, tecnica, dirette e questo argomento speriamo si archivi anche presto come storia. E quindi dopo se vorrete farmi delle domande, se vorrete parlare dell'argomento io ne sarò contenta perché voglio che tante donne capiscono l'importanza della prevenzione quindi vi chiedo di chiedermi un gioco di parole di inviare una richiesta d'amicizia, qualora non lo foste, sul mio profilo Marzia Mazzoni e l'argomento lo sposteremo lì. Volevo dirvi che mi prenderò pochi giorni di pausa sui social network perché li gestisco io personalmente e ne sono molto gelosa quindi non voglio demandare a nessuno che rispondano in maniera finta come se fossi io. Avrei potuto chiedere a qualche amica che è social media specialist facesse invece al mio posto, invece no, le interazioni le voglio gestire io quindi chiaramente per qualche giorno io non posterò nulla sulle pagine Facebook, Instagram di Vacanze Landia. Tornerò, tornerò di nuovo con voi a rispondervi, a postare, solo una piccola pausa. E un'altra cosa a cui ci tengo tanto a dire è che il camper in questo periodo è stato veramente un compagno fedele di questo viaggio perché noi anche le visite le andiamo sempre a fare col camper. Io sarò operata all'ospedale di Cona che è in provincia di Ferrara, il nostro ospedale della provincia e questo ci ha permesso di avere una casina calda, accogliente dove Lorenzo mi attendeva durante le visite. Voi sapete tutti che gli ospedali sono blindati adesso quindi io l'iter lo devo fare tutto da sola e Lorenzo restava al calduccio in camper a lavorare, ad attendermi e il nostro camper davvero è un fedele compagno di avventure belle e brutte. Ho gli appunti, ho gli appunti perché avevo paura di perdere qualcosa. Niente amici Vacanzelandia, noi vi salutiamo, scusate, salutiamo e vi auguriamo un buon weekend e pensatemi, mandatemi le vostre energie positive che sicuramente mi fanno bene e che dire, ciao a tutti, alle prossime avventure che andremo a raccontare e comunque le dirette torneranno perché credo proprio tra una settimana di ritornare con voi. Te sei forte, ti rimetti subito in forma, dai. Insomma, sono a porra che me la faccio addosso. Ma dai, ce la fai, tranquilla, tranquilla. Quindi grazie se siete arrivati fin qua a ascoltare questo video perché sto vedendo dal contatore che l'ho tenuta anche un po' troppo lunga quindi vi ringrazio e niente ci aggiorniamo e spero vada tutto bene. Un buon weekend e noi ce la faremo. Sì, ce la faremo. Ciao a tutti, ciao amici Vacanzelandia e grazie. Ciao.